Per parlare di carnevale dopo ben 47 anni di assenza e tutto questo lo si deve a questo comitato, quello del Santissimo Crucifisso di Noto Alta. Queste persone con tanta passione e tanto lavoro hanno organizzato una manifestazione che si è svolta tra il sabato 9 e la domenica 10 e che è stata organizzata all'insegna del risparmio e del riciclo, proprio perché attraverso delle raccolte di fondi con pesche e attraverso anche ovviamente i finanziamenti del comune si è organizzata questa bella realtà per dare vita a questo quartiere storico e purtroppo spesso dimenticato. Parliamo con il presidente del nostro comitato, Francesco Rubino, che ci parlerà appunto dei eventi più importanti della manifestazione e di come la città ha proprio risposto a questo evento. Prego. Carnevale a Noto era, poco tempo fa, un'utopia. Questo gruppo di cui io sono il presidente ha lavorato molto bene cercando di sfaldare molte idee che alla fine ci hanno accomunato in un'unica realtà, cioè quella della collettività. Si deve anche a loro, alla loro prestazione, chi ha lavorato per vendita dei biglietti, chi ha lavorato anche come soprattutto con decorazioni, quindi artisti e eccetera. Mancano altre persone che non sono purtroppo presenti perché c'è chi sta male e quindi io ringrazio soprattutto gli altri membri del comitato. Allora tutto è nato, cioè è nato tutto proprio per la voglia, per il piacere e la soddisfazione di dare qualcosa col cuore al nostro quartiere. Diciamo pure che siamo stati un pochino privilegiati per il fatto che noi come sementi, perché siamo stati dei semi e che abbiamo trovato terreno fertile nel nostro sindaco perché il nostro sindaco ci ha subito appoggiati su tutto quello che abbiamo voluto realizzare. Ci appoggiati proprio disinteressatamente e affettuosamente perché effettivamente ci ha dato carta bianca, ci ha dato fiducia piena. Effettivamente noi abbiamo cercato comunque di non deluderlo perché abbiamo lavorato come tante ave operai. Infatti il nostro motto è tutti per uno, uno per tutti. Infatti anche se ci sono dei ruoli anche dentro l'associazione, dentro il nostro comitato, in effetti è un ruolo non tanto importante perché alla fine ognuno fa quello che c'è bisogno in quel momento, sia che presidente, sia che segretario, sia che tutto. Il carnevale alla fine è andato bene perché ci siamo inventati giochi, ci siamo inventati iniziative, abbiamo dato premia, abbiamo dato un po' del nostro spirito anche all'organizzazione di come doveva andare la cosa. Poi il sindaco, giustamente, lui ci ha dato il suo contributo economico. Noi abbiamo cercato di un po' di integrare quello che mancava, per non pensare anche sul bilancio, perché i comuni si sa che in questo periodo hanno un po' di problemi. Però noi facendo tutto sul risparmio, economizzando su tutto, riciclando tutto quello che c'era da riciclare. Ci auguriamo tutti che il carnevale si ripeta come tutte le altre manifestazioni del comitato che si sono avute durante il periodo dell'infiorata e nel corso del programma istituto.